Domenica ventiduesima del Tempo Ordinario, anno C. La Domenica dell'ultimo posto. Il brano che incontreremo è Luca, capitolo quattordicesimo, un primo versetto di questo capitolo, poi 7,14. Un guardiale benvenuto a voi qui e a quanti ci seguono via web. Come sempre, partiamo con l'invocazione allo Spirito. Possiamo dire l'indronizzazione dello Spirito nei nostri cuori, perché possiamo accogliere, ecco, quando lo Spirito dice della Trinità, del Popolo Santo di Dio, dell'amore dell'Eterno. Siamo davanti a te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel tuo nome. Con te solo a guidarci, fa che tu sia di casa nei nostri cuori. Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori. Non lasciare che promuoviamo il disordine. Non lasciare che l'ignoranza ci porti sulla strada sbagliata, né che la parzialità involenzi le nostre azioni. Fa che troviamo in te la nostra unità, affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna. e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a te, che sei all'opera, in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. Prima di entrare nella parola, lasciarci prendere, a tal punto da modificare anche il nostro stile, vorrei sottolineare alcune cose, specialmente per queste ultime persone che si stanno aggiungendo ai nostri gruppi alla rubrica Mangia la parola. Un atteggiamento di fondo, ci verrà detto anche in questa pagina del Vangelo, l'atteggiamento della umiltà. La nostra vicinanza, la nostra accoglienza della parola, in realtà non passa per la mente. Dovrebbe passare per la bocca, perché si mangia dall'orecchio alla bocca, scendere nello stomaco e diventare vita nostra, la vita di Cristo diventare la nostra vita. Usiamo questa espressione mangia, mangia la parola, perché niente è più concreto del verbo mangiare. Tutta la vita, tutto ciò che è vivente, fa questa esperienza del mangiare. Questo presuppone, specialmente quando noi ci mettiamo nella dimensione di quella che siamo, di fronte a Dio, siamo piccoli, presuppone un passaggio, non la predesa di voler capire, ma di accogliere. Ho detto tante volte, se si mangia, le portate sono abbondante, la parola è ricca, prendiamo, ognuno, prenda quella che gli serve, quello che lo aiuta a vivere. Questa parola che vedremo anche oggi non è una parola per quelle che stanno bene e che, come faranno con Gesù, nei salotti amano discutere su Dio, sulle cose di Dio. La parola di Dio non serve a questo, non è un argomento né si lascia argomentare. La parola di Dio è da barra, è efficace, è forza, è dinamismo, è potenza, è vita. Ora con questa realtà possiamo solamente sperimentare, non possiamo concettualizzare, non possiamo istruirci di questo. Dice, ma a me non serve, non te lo prendere. Dice, ma io voglio una parola diversa, vai altrove. Non è mio compito specifico, ecco, farvi argomentare sulla parola di Dio. E' entrare, e' incontrare. E allora con questo atteggiamento e anche con questa umiltà ascoltiamo, ecco, il Vangelo di Luca, capitolo 14esimo, versetto 1, poi 7,14. Un sabato si elegò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Che cosa stavano, sa come mangiava? Vedere se osservava il Galateo? Vedere come, ecco, si sarebbe così sprofondato nel cibo, nel vino, facendolo passare come il mangione e il beone? No, qui manga, ecco, questo brano, diciamo, il versetto 2 al versetto 6, dove in questa sala c'è un ammalato. c'è un ammalato tropico che essendo di sabato in una casa dei farisei, quindi degli osservanti, stanno per cogliere Gesù in una dimensione, ecco, di fallo. Guarrirà quest'ammalato? Oppure lui sarà così rigido che metterà da parte quella rivelazione della misericordia del Padre? Capito dove sta? Ecco, questa, stavano ad osservarlo, stavano lì pronti per coglierlo in fallo. Allora Gesù dice, è lecito o no guarire un uomo di sabato? Qual è la risposta? Nessuno risponde. e Gesù lo guarisce. Poi domanda se uno di voi un asino aveva il puzzo di sabato, voi lo dirà Gesù o lo fate morire? Allora, se voi avete compassione di un asino che vi serve, quando Dio ha misericordia verso l'uomo. E allora qui Gesù dice una parabola. Entriamo al versetto 7. Diceva agli invitati una parabola notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno non metterti al primo posto perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te, lui, venga a dirti cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece quando sei invitato va a metterti all'ultimo posto perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica amico vieni più avanti allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Ascolta disse poi a colui che l'aveva invitato quando offri un pranzo o una cena non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini perché a loro a volte non ti invitano anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario quando offri un banchetto invita i poveri storpi zoppi ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Ecco di fronte a questo brano ci sono tanti filoni ci sono tante possibilità ci sono tante questioni sicuramente qui Luca non ci presenta del maestro del del buon vivere ecco del comportamento diciamo educato poco come facciamo con il galateo non è una lezione di galateo si è ben chiaro non è neanche una lezione di comportamento come ci si comporta ecco facendo apparendo manifestandosi falsi modesti per essere poi lodati qui Luca ha un problema della comunità è Luca che osserva che nelle comunità cristiane prima comunità si faceva a garra ad occupare i primi posti e qui Gesù cerca di far entrare il cristiano l'uomo nella sua identità per voi adesso è facile capire qual è l'identità dell'uomo l'uomo è che bello sono proprio contento perché ecco rispondendomi in questo modo vuol dire che per le mille volte che l'ho detto l'avete imparato l'uomo è terra è humus umano è terreno è umile questa è la sua identità è chiaro che qui il discorso che stavo facendo prima trova uno svolgimento un po' diverso come facciamo oggi a dire queste cose all'uomo al giovane al ragazzo di oggi dove tutta una psicologia una pedagogia forza ognuno a uscire dalla depressione cercando di ritrovare se stesso di affermare se stesso di riconciliarsi con se stesso avere cura di sé come si può ecco incarnare questa parola e qui tutte le mediazioni logiche che non servono a niente Gesù ci fa ritornare in quelle che siamo ci porta nel deserto della nostra resistenza ci fa stare con i piedi per terra ci fa entrare nella nostra giusta dimensione di peccatori perché se non c'è questo atteggiamento inizia non ci sarà misericordia non ci sarà misericordia allora capito come questa lotta no? che l'uomo fa nei confronti di questa proposta ma ancora di più se la chiesa per 1500 anni ha cercato di occupare i primi posti i primi posti non può accettare questo non lo può accettare quando la chiesa si è strutturata quando la chiesa grazie a Costantino a tutti gli imperatori che hanno trovato solo un utile nella chiesa e hanno fatto entrare nel popolo santo di Dio pagani allora è chiaro che la mentalità del mondo è entrata nella chiesa il Papa spesse volte fa riferimento a questo fatto lui no? ci dà anche l'esempio di uscire lui non fa i ragionamenti ecco sull'umiltà o sulla via della perfezione no? lui compie dei gesti come noi possiamo riscoprire la nostra identità chi siamo? il mercoledì delle ceneri se lo ricordo bene sei terra e terra ritornerai se lo spirito santo non abita in te e farà di questa terra quell'uomo divinizzato quell'uomo cristificato che lo mette in relazione al Dio eterno che è Padre e allora è importante che noi cominciamo a fare un'operazione mentale liberandoci da una mentalità che facciamo passare come una mentalità di perfezione di precisione di organizzazione perfetta quella che invece è governata dallo spirito il problema dello spirito come vi ho detto altre volte è che non si fa incapsulare lo spirito è dinamismo è soffio è vitale lo spirito soffia come vuole dove vuole e quando vuole perciò il Papa vedete non parla più di schemi anzi fa saltare tanti schemi per entrare in un processo nel processo il processo ha di caratteristiche che non si sa come finisce non si sa prima noi tutti invece siamo abituati a organizzare tutto a stabilire tutto e non sappiamo uscire fuori da questa mentalità di questa logica e quando ci troviamo a vivere l'esperienza dello sconcerto usciamo fuori dal concerto siamo depressi siamo avveliti siamo malinconici abbiamo bisogno ecco di aprire il nostro cuore a questo processo dello spirito cosa dice stamattina questa sera oggi no che cosa dice a me lo spirito mediante questi avvenimenti questa parola Luca aveva ecco questo attaccamento al primo posto no ma basta guardare anche le nostre comunità basta guardare ogni tipo di istituzione o struttura che subito c'è un capo abbiamo bisogno ecco di un punto di riferimento che sembra anche giusto logico ma non è misterico non è profetico non è profetico abbiamo bisogno di riferimenti per non smarrirci allora abbiamo un vero riferimento quello che noi oggi diciamo ma non cogliamo enarche o logos il principio di ogni cosa è la parola di Dio la rivelazione non la parola scritta la rivelazione quando lo spirito ci trasmette attraverso quella parola facciamo anche attenzione a questo che noi possiamo anche organizzare la parola è lo spirito lo spirito che rende viva questa parola e diventa vita per me se la mangio e allora come sempre dopo questa premessa entriamo nella parola un sabato possibili tanti giorni ma sempre di sabato deve capitare questo verrebbe da dirci a tutti quanti no ma sempre di sabato dobbiamo fare queste questioni c'è il sabato c'è il sabato che viene ogni ogni sette giorni come la domenica c'è la domenica che viene ogni sette giorni se vai a messa la domenica come no ma ci fai tutte le domenica no quanto capita allora la domenica per noi capita viene ogni quanto capita no ogni sette giorni il ritmo settimanale è biblico è vitale si regò a casa di uno dei capi dei farisei Gesù va da capi a capi capi dei pubblicani capi dei pubblicani si fa tutti i capi ecco si va come si fa anche oggi no si fa dei capi si è invitati a partecipare alla cena quanti preti vanno alla cena dei capi non dei poveri quante persone cristiane no si radunano intorno a una cena per fare che cosa per prendere delle decisioni per discutere ragionare è molto più bello no Gesù va qui dai capi dei farisei immaginate un po' un farisei che cosa possa fare se non osservare lui è un osservante nato vuole osservare ecco Gesù di fronte a quella situazione di quella ammalata no che cosa ecco può fare ma tutti quanti tutti i farisei se c'era il capo c'erano anche gli altri farisei e vedete come bello qui nella versione greca ci sta di sabato a mangiare il pane capito per pranzare che cosa che cosa vi richiama il pane è l'eguaristia Gesù non va a fare ecco l'amico della famiglia l'amico del club no per poter ragionare no lui porta con sé una beracà una benedizione perciò Luca ci riferisce proprio questo vedete questo fagein arton è il pane del riferimento all'eucaristia e vediamo cosa succede diceva agli invitati il versetto settimo una parabola aveva visto come cercavano tutti i primi posti no e beh arrivato il vip della situazione si voleva un po' vedere perché noi abbiamo bisogno di vedere sempre qualcosa di particolare di straordinario stare vicino significava appartenenza maggiore no allora qui Gesù ecco fa racconta a chi qui dice gli invitati il verbo è caleo ai chiamati il pane e l'eucaristia ci sono i chiamati beati i chiamati alla mensa del Signore Gesù ha questo compito è quello di rendere beati coloro i quali sono chiamati ma se i chiamati rimangono nella loro intenzione nel loro modo di essere che seguono quelle che è la logica del mondo non diventeranno mai beati allora usa la parabola la parabola vi ricordate qualche volta vi ho detto come anche questa espressione questo modo di raccontare parabolico è un atto di misericordia la parola può essere diretta ed è come una spada taglienta a doppio taglio no? che pende le giunture delle ossa quindi è capace di spezzarci in due in tre è forte ma Gesù usa ecco la parabola ricordatevi un po' che la simina che viene fatta parabolica no? a ventaglio perché cade e possono accogliere accogliere c'è chi accoglie uno chi accoglie due chi accoglie tre chi non accoglie accoglie questo vedete è un atteggiamento di rispetto della libertà dell'uomo noi vogliamo tirare fuori un Dio giudice perché se sbagli paghi muori vai subito dall'invento nel Vangelo questo non c'è perché già l'uomo sta nella sua dimensione di sofferenze enorme notando come sceglievano i primi posti è la logica del mondo è il modo di vivere lo stile del mondo altro che stito sinodale e noi parliamo no? il primo posto perché perché si vede meglio si riceve di più i primi posti significa beati gli ultimi sia prima saranno misericordiosi quando si va a mangiare no? gli ultimi resteranno sempre ultimi e qui Gesù vedete con questo brano ci fa entrare nella verità della nostra vita noi purtroppo viviamo e tante volte ve l'ho anche detto in questa cultura dell'ipocrisia l'ipocrisia è brutta vera no? l'ipocrisia come attori diciamo in questa dimensione diplomatica che è tipica no? di certe strutture anche di potere se non sei diplomatica non puoi governare cioè il diplomatica è quello che dice una cosa e ne pensa un'altra questo si chiama falsità ipocrisia o no? noi abbiamo creato strutture interamente fondate su questo principio detto diplomatico ecco lo diciamo un po' più pulito no? Gesù lo dice ancora in un modo più bello no? quando dice farisei ipocriti attori commedianti ma questa non è la verità della nostra vita commedianti è uno che recita non è la sua verità della vita e allora che cosa succede? quando sei invitato Cletes sei chiamato eh? molti sono i chiamati ma pochi che letti quando sei chiamato a nozze a nozze la relazione con Dio è sempre di ordine coniugale ma perché? ve lo dico anche subito ve lo faccio capire subito la relazione con Dio è basata sull'amore l'amore si fa l'amore si vive l'amore non si discute non si ragiona perciò quando sei invitato chiamato da Dio a vivere una profonda relazione che ogni volta vi spiega l'Eugarestia è questa relazione d'amore è questo sposalizio noi abbiamo tolto completamente dalla nostra predicazione abbiamo tolto lo sposo anche il congile tutti quanti la nostra dottrina cristiana ha fatto di noi dei profeti dei sociatori dei re mai sposo Gesù si rivela come lo sposo e noi riceviamo di Gesù questa dimensione sponsale questo sposo che sposa la comunità l'esperienza di Dio essendo ridotta ad una concettualizzazione ad una mediazione intellettualistica non ci fa cogliere l'aspetto organico del matrimonio l'amore si sperimenta l'amore si vive l'amore si fa non è un concetto astratto l'amore è relazione vita a tal punto da donarsi che se non c'è questo dono totale non c'è l'amore amore vero amore di Gesù Cristo è faticoso anche dire questa parlare in questi termini perché noi abbiamo fatto tutto ciò che riguarda la sessualità che riguarda l'amore la concretezza dell'amore è tutto peccato abbiamo dal mente no? pregato il peccato il peccato è questo che oggi è diffusissimo cioè quello che noi volevamo proibire è diventato molto più diffuso in un modo anche terribile terribile di sfruttamento di soldi cioè perché ci siamo preoccupati eccessivamente di purificare 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 qui questo capo dei farisei gli altri volevano vedere se Gesù si lavava le mani prima di mangiare voleva vedere se lei si era osservante delle norme molto probabilmente l'ha fatto pure le abluzioni volevano cogliere cogliere che per loro è importante l'osservanza non il fatto dell'incontro come per noi per noi noi siamo talmente presi da quelle che è la dottrina 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 che Gesù Cristo nella dottrina non c'è sappiamo sappiamo tutto di Gesù Cristo anche quelle che non c'è lo sappiamo ma non l'abbiamo mai incontrato non abbiamo mai vissuto una dimensione esistenziale perché l'amore è un fatto esistenziale non è un fatto platonico per essere platonico come è diventata il nostro la nostra relazione con Dio è astratta ciò abbiamo bisogno di recuperare tutto questo allora quando tu sei chiamato a vivere le nozze a vivere le nozze e il mangiare esprime questa coniugalità quest'amore dove trovi il suo punto culminante ditemelo voi adesso dove sta questo punto culminante dell'amore sulla croce letto d'amore dove ci ha sposati Cristo Signore noi pensiamo subito al banchetto pensiamo subito alle feste non so a quelle che è l'entità della festa c'è proprio questo dono questa sublimità dell'amore non metterti al primo posto non metterti al primo posto entri in quella che sei se tu entri in relazione con Dio pensando di fare un piacere a Dio non puoi ricevere misericordia perché non ci sia un altro più degno di te invitato e che succede che colui che invita te e lui venga a dirti cedigli il posto dagli il posto per te il posto non c'è capite quando quando l'uomo pensa di diventare Dio si mette al posto di Dio per lui nel cuore di Dio non c'è il posto pensa che è chiaro questo no è chiaro anche a livello di sensazione no allora dovrai a schioness con vergogna schioness significa migliore buono no bella gloria qui è con vergogna mancanza di gloria è la vergogna occupare l'escaton topon l'ultimo posto dovrai discendere questo cateche in discendere invece quando sei chiamato va a metterti all'ultimo posto qui Gesù è di una concretezza unica noi di questo discorso di queste parole ne faremo tanti quei discorsi Gesù sta dicendo una cosa semplice che vi ho detto subito tu che cosa sei non puoi rinunciare a quelle che sei sei ultimo sei terra stai a terra stai giù non stai su sei calpestato e quando ti calpesteranno benedici Dio benedici Dio perché stai nella tua vera dimensione metterti all'ultimo posto provate oggi a dire ai giovani o ai nostri cristiani che anche loro vivono questo perbenismo ipocrita di far vedere diplomatico vivono per poter realizzare i loro sogni potersi affermare nella società i loro sono completamente diversi quando viene colui che ti ha invitato e qui è bello vedete questa è la misericordia tu che scendi nella profondità del tuo essere umile terreno ma non devi fare sforzo per cadere a terra devi fare uno sforzo è per saltare il muro che si fa uno sforzo noi facciamo diventare uno sforzo ecco il cadere a terra essere a terra ma siamo a terra per essere terra che cosa dobbiamo fare niente dobbiamo essere ma noi ci teniamo ad apparire in un certo modo e allora ci creiamo questi salti che ci fanno cadere poi con la faccia per terra e ci fanno anche sanguinare perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica che bello vedi c'è anche questo termine no file amico vieni avanti vieni avanti vieni su ti eleva ma lui non tu signore sono pochi quelli che si salvano quelli che si salvano e nessuno quelle che Dio salva sono tantissimi allora questo gesto di tirarti su no che viene questo padrone di caso questo spulso no dici vieni mia bella mia tutta bella no vieni vieni nel mio giardino vieni e questa è la misericordia la misericordia che rigenera non è una misericordia che ci fa sentire più peccatori di quelle che siamo e quando stiamo a terra più a terra di così non possiamo stare allora ne avrai onore gloria davanti a tutti quelli che sono sdraiati a mangiare i congiacenti a mensa con te perché è qui il principio diciamo che anche nella sapienza biblica ci sta chiunque si esalta iupson chiunque è esaltante no l'innalzante se stesso sarà abbassato eh sarà mandato giù il verbo che viene usato in greco è tapeinotese tai l'origine è tapino no tapino e anche di ah si dice qualche dono che è di poco valore di poco conto tu che ti innalzi pensi di essere chissà che cose che cosa fai senza di te il mondo non cammina non va avanti tu sei tutto tu sei questo io sono io sono io sono proprio bestemmiamo continuamente il nome di Dio io sono questo sono quello sono quello io sono io sono e allora diventa un tapino diventa qualcosa che è completamente abbassato e chi è vive la sua dimensione storica concreta di essere semplice umile sarà innalzato disse poi e qui ci sta vedete la parte anche che converte no dice tu hai invitato me perché mi consideri un diciamo un capo mi consideri un tomaturo mi consideri ma io sono umile io sono povero e allora quando offre un pranzo o una cena non chiamare non chiamare gli amici di te né i fratelli di te né i parenti di te né i vicini ricchi affinché essi poi non ricambiano l'invito e diventa una relazione paritetica tu a me io a te tu a me e non si esce fuori da questo circolo no vai oltre la chiamata è per una missione per qualcosa che ti porta oltre non è chiudersi in se stesso noi siamo con i piedi per terra per essere elevati noi che siamo a terra dove ci sdraiamo e lì mano a mano ci addormendiamo e veniamo anche sepolti no nella nostra dimensione il Signore vuole fare di noi i diri i sorti non dei zombie dei morti no dei seppelliti prova a stare sulla terra per parecchio tempo e vedete che la terra dicopre come il seme no e dopo che ti fa anche marcire ma tu non fiorisci se il seme non viene dall'alto se terra diventa terra terra non diventa un albero il seme diventa un albero perché viene perché viene dall'alto perché loro a loro volta non di cambiano ecco questa e questo non le facciamo vedete questa queste come dire queste cene no di convivialità con le persone conosciamo questa al contrario alà quando offri un banchetto quando fai un ricevimento no chiama e qui c'è lo stesso verbo tu che sei chiamato chiama che bello no vedete come si passa questa autorità questa eccosia chiama potocois potocoi i poveri i poveri gli storpi gli zoppi tu flus i ciechi c'è veramente la popolazione la popolazione soffre e per fare questo oggi non c'è bisogno di andare negli ospizi per trovare gli anziani i poveri stiamo pieni di povertà sarai beato perché non hanno da ricambiarti e questo è l'investimento vedete se vogliamo parlare sempre in termini economici se tu inviti i parenti e gli amici comunque l'ora ti ricambia no vedo e non hai niente da pretendere quelle che hai fatto lo fanno tutti è comune se invece inviti queste persone che non hanno come ricambiarti succederà che riceverai la tua ricombenza alla risurrezione dei giusti cioè sarai ricambiato in un modo anche più abbondante più pieno da quelle che è la misericordia la bontà del Signore essere terra è un poco il motivo di fondo di questo tempo sto dicendo sia per la mia esperienza missionaria in Gambagna nella bella terra di Brizza no che è veramente i mazzoni pensate un po' questo territorio che veniva anche elogiato per essere la terra dei mazzi di fiori che offrivano al re orbonico quando andava a caccia questa terra diciamo ricca abbondante e allora non posso non parlare della terra posso non far riferimento organico a quelle che noi siamo ma noi vogliamo diventare altro questa è la dicotomia la come dire la contraddizione che abita in noi noi diventando terra accogliamo obbediamo generiamo facciamo in modo che quel sieme possa fruttificare dare frutti dare frutti e quando i frutti sono maturi dove cadono cadono a terra no la terra si nutre anche di questi frutti vedete la prima beneficiare di questi frutti è la terra stessa noi stessi ne beneficiamo ma dicevo in una cultura come quella di oggi dove tutto deve apparire è tutto in funzione di una recita di una rappresentazione noi oggi abbiamo l'era della rappresentazione anche a livello psicologico o psichiatrico per fare una terapia sicura alla rappresentazione rappresentiamo come i brano nella scena si fanno delle rappresentazioni perché così uno riesce anche a accogliersi a vedere come si comporta in una certa situazione ma noi siamo così presi da noi stessi che noi ci comportiamo in un modo che non ci sta bene nemmeno e soffriamo terribilmente soffriamo terribilmente è un po' come per tanto termine nella vita consagrata tante persone per mettere in pratica tutte le norme tutte le regole tutte le cose stavano male fisicamente si sta male abbiamo bisogno di riconciliarci con il nostro fisico se io sono terra non ho bisogno di difendermi di apparire l'unica caratteristica è che accolgo e come accolgo gli altri accolgo anche me innanzitutto mi riconcilio con me stesso con la mia storia che è quella che maggiormente ecco ci determina e ci angustia ci fa soffrire una storia che noi vorremmo sempre diversa noi siamo questo è il Signore che ci fa andare in una storia completamente nuova che è la sua storia la storia d'amore e di salvezza che Lui fa per noi tutti e allora concludiamo questo nostro incontro con colui che ci nutre che è la parola colui che si fa semo per essere accolto colui che diventa cibo per il nostro nutrimento o Dio che chiami i poveri e i peccatori alla festosa assemblee della nuova alleanza fa che la tua chiesa onori la presenza del Signore negli ultimi e nei sofferenti e tutti ci riconosciamo fratelli intorno alla tua mensa per Cristo nostro Signore bene concludiamo come sempre innanzitutto salutando tutti voi tutti voi che state qui questo sparuto popolo no? grece che avete la gioia di fare in come si dice in presenza questo incontro a quando via web ci seguono ci hanno seguito salutando tutti tutti caramente ma anche l'ultimo gruppo di Iglesi Madre di Brizza con domenica avremo l'altro gruppo e concluderemo definitivamente questo pellegrinaggio verso lo Spirito lo Spirito verso di noi perché diventino veri apostoli preghiamo per questi nostri ragazzi abbiamo bisogno di giovani che incontrano lo Spirito si lasciano permeare dallo Spirito e diventano testimoni di quello che è lo Spirito l'amore di Dio ma come sempre concludiamo con la preghiera alla Vergine con lei che ha accolto lo Spirito e ha generato la vita Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo sino Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte il Signore sia con voi e benedica Dio nipotente Padre Figlio e Spirito Santo Amen